Questo è per voi, grazie di essere venuti. Bravi! Va in archivio la sesta edizione della Torneo Nazionale di Calcio Giovanile Benvenuti alla Sud che ha visto la partecipazione di oltre mille persone tra ragazzi e giovani accompagnatori nelle location cilentane di Castellabate e Monte Corice. Noi siamo venuti con tre gruppi l'anno scorso, quest'anno i 2008 non sono venuti perché sono a Lecce per la Milan Cup Sud e sicuramente riconfermeremo e forse dobbiamo venire anche in un numero più cospicuo. Noi veniamo da Santa Maria Capavetere, noi partecipiamo a questi tornei ogni anno a carattere regionale però quest'anno è la prima volta che veniamo qui a Castellabate. E diciamo che è stata una bella esperienza perché c'è stata comunque una vastità di squadre che abbiamo incontrato e quindi una pluralità di gioco e caratteri diversi che si incontrano tra squadre diverse ovviamente. Siamo arrivati da Castellabate di Stabbia, per noi è il primo anno che affrontiamo un torneo così bello non solo per l'ospitalità ma per l'intera organizzazione. Anche per i bambini è stata una grande soddisfazione avere conosciuto altre scuole calcio e quindi avere avuto un confronto tra ragazzi di tutte le altre scuole calcio e ci riproponiamo grazie al nostro Presidente di ritornare a Santa Maria di Castellabate. E com'è stata l'esito della tua categoria? Molto buono e siamo arrivati anche i primi. Tu ti sei divertito? Sì, tantissimo. Un bella organizzazione, un bel torneo. Siamo tutti in finale. Siete tutti in finale? No, siamo tutti in finale. Ci ritornerete in questo posto? Sì, molto. Volentieri, volentieri. È stata un'edizione come gli altri anni sempre in crescendo con numeri sempre più elevati, partite molto combattute e belle. Le persone sono state bene, sia gli accompagnatori che gli atleti nei vari posti. È stata una manifestazione che ha abbracciato un po' tutti i comuni del Limitrofi, da Castellabate fino a Monte Corice. È stata una bella manifestazione. Noi ci aspettiamo sempre ogni anno, sempre una crescita in qualità. Vi aspettiamo l'anno prossimo con la Sud Eventi della Polisportiva Santa Maria, qua al Carrano di Castellabate, nei comuni, per godervi questi posti favolosi. Ciao!